Oltre 60 medici hanno ritirato il certificato di formazione manageriale per dirigente sanitario incaricato della direzione di struttura complessa, un percorso formativo della durata complessiva di 188 ore sviluppato nell'arco di 4 mesi. L'attività formativa è utile per acquisire conoscenze, capacità e competenze necessarie a gestire e risolvere problemi organizzativi, economici e gestionali e a conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati. L'evento conclusivo si è svolto nelle aule del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, diretto dal professor Carlo Sabà. Ora, questo corso organizzato nel nostro Dipartimento grazie, devo dire, innanzitutto all'aiuto dei colleghi della sezione di medicina legale, ha avuto un grande successo. Ci sono stati per questa prima edizione oltre 60 iscritti e avremo, credo, fra poco difficoltà a saturare il bisogno, essendo questa un'esigenza assoluta di tutte le strutture universitarie e ospedaliere complesse della Regione Puglia. L'obiettivo, spiega Giovanni Gorgoni, direttore generale dell'Ares Puglia, è quello di accrescere e qualificare la professionalità degli operatori del servizio sanitario che devono farsi carico del governo clinico della propria unità operativa tra autonomia professionale e responsabilità di gestione. È un elemento imprescindibile, riguarda tutte le professioni in realtà, di qualunque ordine, di qualunque categoria, in sanità ha maggior ragione, ha maggior ragione anche per i manager. Si conclude oggi la prima puntata, le prime due edizioni di questa iniziativa assolutamente inedita che ha dimostrato di essere, diciamo, di successo, aver messo in stessa aula i docenti di tutte e cinque università pugliesi e da questa stessa settimana, dal quattro, si cominciano con le altre edizioni per tutti gli altri discenti. Per questo, per la prima volta, il programma di formazione manageriale definito e promosso dall'Ares ha coinvolto le cinque università pugliesi e l'Istituto Superiore della Sanità. Sì, questa è stata una scelta, a mio parere, lungimirante della regione, è la prima volta e forse anche è l'unico esperimento in Italia di un consorzio, di una collaborazione tra le cinque università, perché le cinque università della Puglia hanno competenze diverse che si possano integrare, insomma, pensiamo da quelle che hanno competenze più di tipo igienico-sanitario, l'università, la facoltà, anzi, dipartimenti di medicina, pensiamo al politecnico, pensiamo alle facoltà che hanno poi anche i dipartimenti di economia e quindi per gli aspetti di management e organizzazione. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme le cinque università e a me è stato dato il compito di coordinarle perché mi occupo di sanità fin dal lontano 1978. Presente alla cerimonia di consegna anche Antonio Uricchio, membro direttivo dell'ANVUR. Abbiamo seguito il percorso con l'Ares, con le altre università pugliesi, già da due anni, quindi un'attività intensa che è stata realizzata sia con la progettazione dell'intervento formativo sia poi con l'erogazione del corso. La formazione, in particolar modo la formazione manageriale, sono prerequisito necessario per assumere il governo delle strutture complesse, quali quelle sanitarie. In Puglia mancava un'esperienza formativa come questa e abbiamo voluto costruirla, immaginarla e realizzarla. Mi fa molto piacere quindi essere qui, avere accompagnato anche nella fase conclusiva il percorso formativo e soprattutto avere anche raccolto passione, entusiasmo e interesse da parte di tutti i partecipanti.